Salve a tutti ragazzi, sono sempre Alessandro e vi sono venuto in questo nuovo video Allora, oggi sono qui con un video diverso dal resto, dal solito, perché come vedete non sono su World of Tanks Bensì vi propongo oggi un contest, un contest a cadenza mensile che credo possa essere una buona idea e possa piacervi Allora, YouTube ha da poco aggiunto questa pagina fan, ovvero questa pagina in cui si può vedere il coinvolgimento di ogni utente con il canale Per coinvolgimento si intende il numero di mi piace, di commenti, di condivisione dei video, eccetera, eccetera Insomma, tutto quello che voi, appunto, in che modo diciamo siete coinvolti con il canale Ho pensato quindi di fare questo contest Ogni mese verrà premiato l'utente con più coinvolgimento, con 1000 gold, verrà premiato da me ovviamente Con quindi i 1000 gold che si possono comprare dallo shop della Wargaming Come funzionerà? È molto semplice Se appunto vi interessa, volete vincere questi 1000 gold, semplicemente dovrete cercare di essere il più coinvolti possibile E quindi ogni video mettere mi piace, commentare, condividere, ovviamente se siete iscritti al canale Quindi credo possa essere un bel contest perché fa felice tutti, diciamo, voi che potete alla fine ricevere 1000 gold E anche io perché ovviamente, diciamo, mi assicuro che voi partecipiate, insomma, e questo ovviamente mi fa piacere Quindi, che dire, non c'è veramente molto altro da dire, semplicemente ogni fine mese Adesso il contest voi lo vedete il 16, perché lo caricherò il 16 E comunque, diciamo che per questo mese ci saranno solo questi 15 giorni Poi dal prossimo mese sarà appunto a cadenza mensile proprio E avrete quindi 30 giorni di tempo E quindi in questi 30 giorni dovrete cercare di essere il più attivi possibile Come ho detto, basta ovviamente essere iscritti al canale, commentare, mettere un mi piace e condividere Queste sono le tre cose che, diciamo, fanno aumentare il coinvolgimento Giusto un piccolo appunto Non, diciamo, non valgono, ecco, i commenti di spam Quindi non andate ora in ogni video a commentare con spam, con una frase a caso o cose del genere Oltre al fatto perché YouTube ve lo blocca e quindi ovviamente non viene contato Ma anche se venisse contato come commento ve lo bloccherei io, diciamo Detto questo direi che non c'è veramente altro da dire Quindi, se volete vincere 1000 gold al mese direi che, insomma, non è una brutta cosa Si possono fare parecchie cose, anche vincendo magari più volte al mese E più volte, scusate, in vari mesi E niente, quindi partecipate Io vi ringrazio per l'attenzione Iscrivetevi già magari in questo video in un commento Se secondo voi è una buona idea, è un buon contest Certo, se mi scrivete nei commenti che non vi piace Ovviamente viene chiuso Però, insomma, credo che possa essere una cosa buona per tutti Grazie per l'attenzione e alla prossima